Io sono sereno perché vedo quei ragazzi che lavorano bene, nello stesso tempo so che il direttore, la società e il presidente stanno lavorando per cercare magari, qualora ve ne fosse la possibilità, andare ulteriormente a inserire in organico qualche altro elemento. Però in questo senso sono tranquillo perché so che stanno lavorando, fino ad oggi abbiamo inserito ragazzi e giocatori che rispetto alle qualità e a quelle che potevano essere un attimo le nostre possibilità, potenzialità, possono darci una mano perché abbiamo dei ragazzi, li abbiamo visti anche oggi, no? Vedi qua i zone, Cioce, sono dei ragazzi giovani sicuramente, però fanno già intravedere delle qualità di un certo tipo, sui quali dover lavorare certamente sotto l'aspetto tattico in prospettiva. Lo stesso Feddalla ieri, lo stesso Rigoni, insomma, hanno già fatto intravedere che questi innesti che sono stati fatti, sono stati fatti con una certa cognizione di causa, in virtù delle caratteristiche. Abbiamo portato un mancino nella linea difensiva che non avevamo, abbiamo portato un centrocampista come Rigoni che sa interpretare le due fasi in mezzo al campo e ci dà anche un'alternativa a Enzo anche a livello, e ovviamente anche più struttura, il centrocampo. E quindi ora strada facendo verificheremo mano a mano che si andrà avanti, qualora ne fosse l'opportunità, sono convinto, sicuro e tranquillo sotto questo aspetto che il direttore e il presidente insomma lavoreranno in un'ottica anche in questo senso.